Da quando, un anno fa, il servizio di prestito della Biblioteca della Regione Piemonte è stato aperto al pubblico, il numero delle richieste è triplicato. E adesso, dall'inizio di dicembre, c'è anche la possibilità, per chi non abita a Torino, di chiedere in prestito uno dei 50.000 volumi patrimonio della Biblioteca attraverso le sedi decentrate degli uffici in relazioni con il pubblico della Regione. Gli URP sono nove in tutto il Piemonte, uno per provincia, più quello del Consiglio regionale a Torino in via Arsenale. In questi uffici si può consultare il catalogo della Biblioteca e ordinare i libri. Un servizio di posta interna permette la consegna dei volumi richiesti nel tempo medio di 10 giorni. Gli uffici della Biblioteca sono aperti al pubblico da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Il mercoledì l'orario pomeridiano è prolungato fino alle 18. Per informazioni biblioteca chiocciola cr.piemonte.it o telefono 011 5757 371.